La risposta è sì. Esiste un congedo per cure disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo 119 del 2011. Questo congedo darà diritto a non più di 30 giorni di congedo annui, dovrà essere presentata apposita domanda da parte del lavoratore disabile e il trattamento economico riservato al lavoratore che fruisca del congedo sarà quello previsto per le assenze per malattia. Altro congedo è quello straordinario di due anni che tuttavia non sarà retribuito. Grazie per la visione!